Maman.blog è un progetto che prende l'ispirazione dalla scultura di Louise Bourgeois eretta davanti al Museo Guggenheim di Bilbao. Questa scultura secondo la sua autrice rappresenta la sua idea di maternità, una maternità quindi molto lontana dai convenzionali canoni della femminilità e della maternità che vedono la donna come sesso debole, ma una maternità che significa presenza, significa un senso di forza e di protezione ai limiti della pericolosità. Questo progetto prevede un percorso attraverso l'arte, quindi l'arte della maternità ma anche l'arte che rappresenta la maternità e la femminilità. Alle nostre partecipanti, alle nostre protagoniste offriamo dei percorsi che possano far loro approfondire e far loro comprendere meglio la propria condizione di femminilità e di maternità. Ai loro figli, poiché i percorsi sono previsti sia per le madri che per i figli, sono offerte delle possibilità laboratoriali che incontrano ogni tipo di stile d'apprendimento e ogni tipo di esigenza. Una particolare attenzione è stata accordata ai ragazzi, alle ragazze, ai bambini e alle bambine con bisogni educativi speciali, cosiddetti bisogni educativi speciali perché noi agiamo nella convinzione che i bisogni siano gli stessi per tutti e che sia il contesto e come siamo abituati a vivere i luoghi e i contenuti di questi luoghi che non sono in grado di accogliere il funzionamento di tutti, che è speciale per ognuno. Gli incontri avranno luogo quasi tutte le domeniche, dalla metà di febbraio ai primi di settembre, nei tre principali musei della città di Perugia, che sono nostri partner, la Galleria Nazionale dell'Umbria, la collezione Marabottini in Palazzo Balteschi al Corso e il Museo Civico di Palazzo della Penna. I laboratori si terranno per madri e figli in contemporanea sia la mattina che il pomeriggio con possibilità di trasporto a carico del progetto per quanto riguarda i turni della mattina.